Un nuovo piano commerciale per gli esercenti del Centro Storico di Biceglie. Approvate in Consiglio Comunale le modifiche al documento strategico del commercio che permettono di rimodulare i parametri per le attività ricettive di vendita e di somministrazione al pubblico. Diverse novità ad implementare il regolamento già adottato 15 anni fa con le nuove disposizioni sottoscritte in assise consigliare. Le imprese potranno aprire nuove attività anche in spazi inferiori a 50 metri quadrati nella zona 1 in modo da intensificare il commercio nel Centro Storico e nelle aree centrali adiacenti. Nuovo ruolo più dinamico invece per l'area mercatale di Via San Martino che oltre ad ospitare il consueto mercato settimanale diventerà centro polifunzionale per eventi commerciali e culturali. Al suo interno inoltre è stato previsto un posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari tipici e non concorrenziali. In questo contesto si inserisce il progetto Un'altra Terra, il programma di recupero e riabilitazione di detenuti ed ex detenuti pronti a reinserimento nel mondo del lavoro. Il progetto sperimentale si unisce all'obiettivo del potenziamento commerciale di Biceglie attraverso le nuove misure per le piccole imprese del territorio. Soddisfazione per il sindaco Angela Antonio Angarano che ha definito proficuo il dialogo con le associazioni di categoria per aggiornare il documento strategico del commercio.